Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Finger Cross che segue direttamente le mosse di Visa AS. I 600 in 44 e 1 con Speciales e Andrea Vitaliano a comandare la gara nei confronti di una bella gara all'esterno. Avanza Visa AS che supera Zima Jet. 800 iniziale in 58 e 9, 14 e 8 davanti alle tribune. Finger Cross cerca di seguire le mosse di Visa AS. Intanto siamo a metà della penultima piegata con Speciales che continua a comandare la gara nei confronti di una bella gara. Visa AS che rimane lì a contatto senza forzare per il momento 1, 13 e 9. Dice comunque il cronometro. 15 il parziale a contatto Zima Jet e all'esterno Finger Cross che lasciano in coda Zoello. Poco più di 400 alla conclusione con Speciales sempre leader. Il parziale ora in 14 e 6. Visa AS si impegna al suo esterno. Si trascina Finger Cross e Zima Jet che non ha spazio. Mentre alla corda c'è sempre una bella gara. Ora può sprintare Zima Jet. Numero 3 Finger Cross squalificato. Intanto Visa AS sta attaccando con decisione Speciales. Sta passando ai 100 finali. Deve adersela con una bella gara che scatta al suo esterno. Ma Visa AS fa buona guardia e vince sulla stessa una bella gara. Al terzo posto Speciales al quarto finisce Zima Jet. 1, 13 netto con 28 e 9 a chiudere. Il successo per Visa AS che incurante del percorso esterno. Ha ragione nel finale di Speciales. Controlla molto bene una bella gara che finisce a ridosso. Ha una lunghezza comunque con Visa AS in pieno controllo. Terzo posto per Speciales. Quarto per Zima Jet. Sono questi i quattro finalisti della seconda batteria. Quindi formate le due batterie che andranno a comporre la finale del Memorial Vincenzo Gasbaretto che vi ricordo sarà la decima corsa del programma. Grazie.